Vediamo subito come accedere ad ASSIA ASSIA è una banca dati in abbonamento ci viene fornita da ProQuest per accedervi dobbiamo entrare attraverso il sito della biblioteca di Ateneo quindi www.biblio.unimib.it Nella sezione ad accesso rapido troviamo MetaBib Biblioteca Digitale il portale attraverso il quale entriamo nelle risorse elettroniche della biblioteca possiamo accedere alla banca dati e scaricare gli articoli anche dall'esterno della rete di Ateneo ad esempio da casa propria ma prima dobbiamo configurare il nostro PC seguendo le istruzioni che troviamo subito sotto accesso da casa alle risorse elettroniche il modo più veloce per accedere ad ASSIA è entrare in MetaBib selezionare Trova banche dati e digitare ASSIA selezioniamo di nuovo ASSIA e siamo entrati nella banca dati possiamo scegliere se interrogare solo questa banca dati o allargare la ricerca ad altre banche dati appartenenti all'area delle scienze sociali per ricerche più approfondite conviene consultare una banca dati alla volta se però vogliamo una panoramica più generale di quello che è stato scritto nell'area delle scienze sociali può essere utile sfruttare questa possibilità farlo è molto semplice basta selezionare nella sezione Search Subject Areas l'area delle scienze sociali Social Sciences e scegliere quale banche dati includere o escludere qui troviamo tutto l'elenco dei database inclusi adesso le deselezioniamo tutte e facciamo una spunta su ASSIA in questo tutorial infatti faremo la ricerca solo in questa banca dati grazie a tutti